Musica Slitta la decisione sulle microzone rosse, Loreto e Sassoferrato chiudono parchi e scuole, ad Ancona annullata la fiera di San Ciriaco del 4 maggio. Niente piste da sci, tutto rimandato al 5 marzo, riapertura apposticipata, delusi gestori, teatri ancora fermi, Vera TV visita la nuova Fenice di Osimo. Dopo la porta arriva la stanza degli abbracci a Chiara Valle, letto matrimoniale per due anziani, coppia di coniugi malati di Covid. Ascoli, la sfida con la regiona e supplementari, Pulcinelli e Ardemagni si pungolano via social e stasera su Vera TV torna a cuore di calcio fare i puntati sulla Serie C e la Samb. In apertura vediamo il report dei dati Covid della giornata odierna, bisognerà ancora attendere per la decisione sulle microzone rosse in provincia di Ancona. Oggi la regione ha inviato i dati della scorsa settimana al Ministero e all'Istituto di Sanità, dunque si attende una decisione anche da parte del governo. Intanto la sindaca Mancinelli annulla anche la fiera di San Ciriaco del prossimo 4 maggio, mentre il sindaco Pezzanesi svela i dati dello screening nelle scuole, nel Maceratese 7, i casi di variante inglese finora accertati. Sentiamo. Sono stati inviati dalla regione Marche al Ministero e all'Istituto Superiore di Sanità i dati sull'andamento epidemiologico della settimana appena trascorsa e solo nei prossimi giorni si prenderà la decisione su eventuali microzone rosse. Sotto la lente ci sono Ancona e altri comuni della provincia d'Orica che venerdì scorso avevano preso parte a una riunione in videoconferenza con il governatore Francesco Acquaroli a seguito della crescita dei contagi. Solo nel capoluogo gli attualmente positivi sono passati dai 588 di lunedì scorso agli attuali 615, quasi 30 casi in più in sette giorni. Intanto l'Aggiunta Mancinelli, tenuto conto del permanere dello stato di emergenza da pandemia Covid fino a tutto aprile 2021, ha già sospeso fin da ora le edizioni di Giardino in Fiore e Fiera di San Ciriaco. Pertanto la fiera patronale del 4 maggio salterà per il secondo anno consecutivo. Lo stesso presidente della regione in un recente post su Facebook si era detto preoccupato della situazione nella provincia d'Orica, quella più popolosa, e dove è comparsa anche la variante inglese del Covid. In effetti degli ultimi 128 contagi rilevati in tutte le Marche, ben 90 sono nel Lanconetano, seguito dai 23 casi in provincia di Macerata, 5 in provincia di Pesarurbino, 2 in provincia di Fermo, 2 in provincia di Ascoli Piceno e 6 fuori regione. Questi comprendono 21 sintomatici. E seppure i tamponi domenicali siano 1.120, un numero inferiore rispetto alla media degli altri giorni, l'indice di positività è arrivato al 21,3%. Intanto il sindaco di Tolentino, Giuseppe Pezzanesi, ha svelato i risultati dei tamponi molecolari di massa effettuati sugli studenti la scorsa settimana, dopo l'allarme della variante inglese. I dati numerici ci dicono che su 1.684 tamponi fatti ci sono 24 casi complessivi di positività, di cui nei primi 15, nella prima fase di screening, che appunto i laboratori di analisi hanno voluto fare, ci sono 7 casi di variante inglese, di cui 4 al comune di Pollenza, 4, e 3 al comune di Tolentino. Quindi gli evocatori di disgrazie diamo questo primo dato, così almeno mettono la lingua dentro, la arrotolano. Nel frattempo nella zona dell'Anconetano alcuni sindaci prendono iniziativa a Sassoferrato, c'è stata la proroga per la chiusura di parchi e giardini, mentre il sindaco di Loreto Moreno Pieroni, oltre a chiudere i parchi, da mercoledì ha firmato un'ordinanza per chiudere anche le scuole. Sentiamolo in questa intervista. Ordinanza già da martedì, già martedì compreso, per la chiusura dei vari spazi pubblici, parchi, giochi e quant'altro, e da mercoledì compreso, per dare un tempo giusto e legittimo a tutti i genitori, a tutte le famiglie, le scuole. Le scuole ritorneranno, non saranno più in presenza, ma saranno in remoto, quindi in danno. La durata di questa ordinanza sarà una durata che andrà da mercoledì compreso fino al 28, quindi fino alla fine del mese, che è domenica 28, proprio perché dobbiamo dare una sterzata a questa crescita così grande, così continua, così problematica per tutti noi. E a questo aggiunco non un'ordinanza, ma un appello, un invito che faccio a tutti noi, per primo me compreso. Chi è in quarantena non esca di casa. Fortunatamente una buona notizia scende, il numero di decessi giornalieri nelle Marche dopo i 12 registrati domeni in un'unica, il report riferito alle ultime 24 ore parla di quattro vittime, due nell'Anconetano, il più giovane, un 73 anni di Corinaldo, il più anziano, un 99 anni di Ancona, oltre a un 88 anni di Vallefoglia, nel Pesarese una 97 anni di Montegranaro, dunque nel Fermano però ricoverata a Camerino. Il totale dei decessi dall'inizio della pandemia è pari a 2.120. Il dato dei ricoveri ha anche visto una lieve flessione di meno quattro unità nelle ultime 24 ore per un totale di 620 pazienti. Situazione sempre più difficile invece nelle case di riposo marchigiane. Il presidente regionale lamenta scarsi ristori dalla regione. Sentiamo Ciro Montanari. L'imprevedibilità del Covid rende sempre più difficile la gestione dell'assistenza nelle case di riposo marchigiane. Il presidente regionale non nasconde la sua preoccupazione. Il contagio si è diffuso nella maniera più imprevedibile e anzi direi che questa volta è stato più violento e più creando problemi della immediatezza del contagio e quindi questo ha reso difficile diciamo quella che era stata l'assistenza. Viene oltre il problema dei ristori che copre una percentuale minima del fabbisogno. Le case di riposo con il Covid sono in enorme difficoltà organizzative ed economica perché il ristoro che dà la regione è un ristoro minimo in quanto con un Covid le strutture non possono fare ingressi e quindi i mancati ricaveri oltre che ai maggiori costi il sostegno finanziario che dà la regione è proprio un sostegno al 20-30% di quello che è le reali perdite delle strutture. Se le case di riposo hanno superato momenti terribili è soprattutto grazie all'impegno del personale sanitario. In questa occasione la colgo per un grazie particolare al personale non solo per dire nello specifico dove sono io ma il personale di tutte le strutture che sono state toccate perché veramente hanno fatto l'impossibile con sacrifici in mani in cui persone per settimane e settimane non hanno potuto nemmeno prendere un giorno di riposo per l'amore e la dedizione che hanno per gli anziani e questo è il bello del servizio delle nostre strutture. E sono stati beffati tanti appassionati di sci e sport invernali, sono stati infatti prorogati i divieti di apertura degli impianti di risalita almeno fino al prossimo 5 marzo. Ci fa il punto Luigi Miozzi. Qui è tutto pronto perché abbiamo lavorato in modo incessante per fare subito il collaudo ed essere pronti quindi in questo momento l'impianto scistico di Montepiselli è pronto e ha fatto già il collaudo. Così parlava il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti i primi di febbraio invece la beffa è servita per i tanti appassionati di sci e sport invernali. All'ultimo momento quando già tutta la macchina organizzativa si era messa in moto ed era pronta per la riapertura degli impianti è arrivato da parte del Ministero della Salute su indicazione del Comitato Tecnico Scientifico l'ulteriore rinvio e la conferma dei divieti fino al prossimo 5 marzo. Una beffa ancora più cocente per i tanti sciatori amatoriali del Piceno costretti a fare i conti con i colori delle regioni e l'impossibilità di varcare il confine con l'Abruzzo che non consente pertanto di raggiungere la stazione sciistica di Montepiselli il tutto mentre il centro Italia è sversato da una perturbazione proveniente dai Balcani che proprio in questi giorni sta provocando abbondanti nevicate anche acquate basse e l'abbassamento delle temperature con la colonnina di mercurio calata decisamente sotto lo zero un rinvio di altri 18 giorni che oltre a deludere gli amanti della montagna fa stoscere la bocca anche i gestori delle stazioni sciistiche che nonostante gli sforzi compiuti vedono sfumare la stagione invernale Ed ora la cronaca giudiziaria si sono avvalsi della facoltà di non rispondere Arianna Razzi ed Enea Simonetti la figlia e il nipote di Rosina Carzetti uccisa a Monte Cassiano il 24 dicembre hanno fatto scena muta nel corso dell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP del Tribunale di Macerata proprio per l'omicidio della 78enne Arianna è arrivata in tribunale dal carcere di Pesaro mentre Enea aveva un po' di febbre e ha fatto un collegamento dal carcere di Montacuto in tribunale c'era anche il marito di Rosina Enrico Razzi anche lui indagato per omicidio ma per il quale non sono state applicate misure cautelare era lì perché voleva vedere sua figlia vedere come stava sono distrutti ha detto dopo le udienze il loro legale Andrea Netti intanto il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica sui trasporti non ha fermato ulteriori episodi di disordine e violenze che si sono verificati sugli autobus di linea della Steat nel fine settimana in particolare tra il quartiere di Lido Trearti e Casa Bianca sentiamo il servizio di Donatella Lappa con l'intervista al prefetto Vincenza Filippi Domenica 6 a Lido Trearchi l'autista di un autobus della Steat si è trovato costretto ad arrestare la manovra per il caos creato da un gruppo di ragazzi di origini extracomunitari a bordo del mezzo partita la richiesta di soccorso sul posto sono arrivate due volanti della questura di fermo che dopo aver preso in mano la situazione hanno fatto scendere dall'autobus il più esagitato tra i giovani per poi identificarlo a quel punto con la polizia di Stato a riportare la calma l'autista è potuto ripartire ma solo il giorno prima un altro episodio di ragazzini a bordo di un autobus a Casa Bianca ha creato altri disagi abbiamo chiaramente sottolineato anche la presenza del comune l'opera importante che la polizia municipale la polizia della città deve chiaramente svolgere in questo campo c'è stato rappresentato che molto spesso chiaramente il deterrente maggiore è rappresentato dalle forze dell'ordine cioè dalla presenza di una divisa la presenza delle forze dell'ordine è determinante ma non può essere una costante nel quotidiano si cerca di andare avanti e soprattutto secondo il prefetto Vincenza Filippi la cosa più importante è la cultura della legalità e il bene pubblico è chiaro che nel momento in cui si forma una situazione di natura patologica sotto l'aspetto del disordine intervengono però ordinariamente diciamo il compito è affidato agli steward che sono stati comunque messi in campo dall'azienda dei trasporti dalla polizia municipale e poi chiaramente dalle forze di polizia che comunque non abbandonano chiaramente il cittadino ma sono sempre presenti sul territorio che all'occorrenza chiaramente intervengono nonostante il comitato per l'ordine della sicurezza pubblica voluto dal prefetto Vincenza Filippi la scorsa settimana per trattare tutte le problematiche inerenti quegli episodi brutti avvenuti sugli autobus della Steat la situazione non sta migliorando le cause sono da ricercarsi in un disagio sociale che trova le proprie radici nella pandemia certi comportamenti di pura aggressività che possono in qualche modo derivare anche da mesi in cui effettivamente i ragazzi sono stati un po' ristretti un po' chiusi però non devono far dimenticare che la libertà è il riconoscimento del diritto di ognuno e quindi non è giusto che sugli autobus si determinano delle situazioni per cui altri soggetti magari i frequentatori diciamo le persone che stanno sull'autobus sono costretti a scendere per la paura chiaramente di trovarsi di fronte a situazioni di rissa ovvero che i lavoratori che stanno lì svolgendo un lavoro non facile debbono avere preoccupazioni e paura nel guidare l'autobus che è comunque sempre un'operazione che merita rispetto ed è chiaramente delicata perché? perché si formano queste forme appunto di violenza di disordini di reattività che hanno l'unico scopo quello di divertirsi e in qualche modo diciamo superare la novità ci spostiamo ora a San Benedetto per parlare invece di bivacchi al mercato ittico l'amministratore del complesso comunale chiede di ricorrere alla vigilanza privata sentiamo Benedetto Marinangeli problematica clochard al condominio del mercato ittico di San Benedetto del Tronto numerosi senza tetto la notte vengono qui al primo piano della struttura per passarvi le ore più fredde al riparo con cartoni coperte e quant'altro una situazione che mette in difficoltà tutta l'intera struttura e che ha pensato di istituire un servizio di vigilanza proprio per evitare questo tipo di problematica Sì, noi abbiamo avuto più di una segnalazione senza tetto che sono andate a dormire sotto le scale o comunque nella zona al primo piano del complesso del mercato ittico creando anche dei danni perché poi logicamente dormendo là hanno abbandonato anche materiale quindi ci hanno chiesto più di una volta chi logicamente i gestori e anche lo stesso comune di verificare come si poteva fare per migliorare questa situazione i vigili urbani che sono già presenti al mercato ittico hanno la necessità cioè il loro compito è quello soprattutto di stare all'interno dell'asta per gestire l'asta quindi sappiamo che il comune non può darci questo supporto per la vigilanza del complesso anche perché poi è compodo dai segnatari comunque gestirlo e manutenzionarlo quindi è un problema sensibile e cercheremo il prima di possibile di portare delle soluzioni agli segnatari stiamo proponendo adesso al prossimo incontro con tutti i gestori o una chiusura o addirittura che secondo me sarebbe migliore anche una vigilanza così anche per evitare atti vandalici o qualcosa questo è sempre uno spazio aperto accessibile a tutti quindi avere diciamo così un vigilante che ogni tanto passa e controlla non sarebbe male siccome i costi abbiamo visto che non sono eccessivi sono abbordabili quindi proporremo ai gestori dei box questa questa iniziativa quando vi incontrerete? Beh entro inizio di marzo si contatteremo la riunione annua della gestione del complesso e quindi faremo queste proposte agli assegnatari nonostante lo stop dei teatri prosegua siamo entrati con le nostre telecamere nella nuova Fenice di Osimo gli addetti ai lavori non nascondono la loro voglia di tornare al più presto a fare cultura e abbiamo intervistato anche il direttore Marrocchi sentiamo cosa dice al microfono del nostro Ciro Montanari i teatri sono ancora chiusi ma la voglia di ripartire è grande siamo entrati alla nuova Fenice di Osimo dove il sindaco è molto orgoglioso del suo gioiellino vi invito tutti a venirlo a visitare il teatro la nuova Fenice di Osimo appena si potrà perché qui ha suonato la forma con degli splendidi concerti c'è una stagione di prosa che ha ritrovato il suo vigore con un più 40% degli abbonamenti prima che arrivasse la pandemia e poi è a disposizione di tutti coloro che vogliono organizzare iniziative culturali di alto livello comunque in qualche maniera siete pronti per una nuova stagione culturale noi siamo sempre pronti perché in questi anni abbiamo investito molto in cultura nel binomio cultura-turismo i nomi ci hanno dato ragione poi è arrivato il covid e spero veramente che dopo l'estate ci possa essere il vaccino per tutti e si possa ripartire in questi due grandi settori anche il direttore della nuova Fenice attende con trepidazione nuove disposizioni per una futura riapertura per fare teatro bisogna stare sopra il palcoscenico e lo spettatore deve vivere il momento che è unico e irripetibile diciamo che ci stiamo preparando per la riapertura totale del teatro attualmente siamo chiusi mai da parecchio tempo però potremmo riaprire diciamo con le persone a livello contingentate quindi con un volume ridotto comunque si può fare sicuramente qualcosa si può fare anche cultura anche con poche persone l'importante è riaprire dare un avventato di ottimismo perché il teatro è come si può dire catartico dà sollievo alle persone che sono state chiuse dentro dentro casa per parecchio per parecchio tempo e vogliono hanno voglia di cultura hanno voglia di musica hanno voglia di di teatro di prosa hanno voglia anche i bambini hanno voglia di avere il loro teatro c'è veramente voglia di tornare al teatro tantissima perché il pubblico mette entusiasmo energia e poi quando arrivano questi attori spenditi da teatro veramente si infiamma l'entusiasmo e l'energia che c'è all'interno del teatro di Nuova Fenice ed ora un'altra storia emozionante grazie alla porta degli abbracci all'ospedale di Chiara Valle quello trascorso è stato un San Valentino diverso ma la voglia di trasmettere messaggi d'amore è sicuramente ancora più grande un esempio arriva dall'ospedale Montessori di Chiara Valle dove per una coppia di ultra ottantenni ricoverati è stata addirittura destinata a una camera matrimoniale in questo momento abbiamo moglie e marito ultra ottantenni che abbiamo appunto preferito metterli insieme anche in passato avevamo avuto un'altra coppia e in questa volta questi familiari ci fanno un po' più sorridere perché hanno le dinamiche ormai di coniugi che si conoscono e si supportano in questo periodo anche un po' drammatico per loro però ci fanno sorridere anche loro qui è ormai divenuta nota questa porta degli abbracci che è una finalità importantissima permettere ai malati di covid di abbracciare e vedere i loro familiari indubbiamente emozionale l'avevamo già confermato anche quando ci siamo abbracciati tra operatori e psicologico perché comunque le famiglie riescono a vedersi a incontrarsi cosa che appunto nella prima ondata del covid non eravamo riusciti ad organizzarci alla porta degli abbracci dopo una prima fase di stabilizzazione è possibile effettuare due visite al giorno ogni pomeriggio sette giorni su sette alcuni pazienti sono autonomi altri vengono accompagnati in carazzina e nei casi più complicati sul letto complessivamente sono già stati presenti oltre 60 familiari con storie emozionanti tra queste quella di una figlia che ha sempre simpaticamente incitato il padre sino alle sue dimissioni è capitato nel mese scorso un signore abbastanza autonomo lucido anche gli ultraottantenne che riceveva spesso le visite dei familiari in particolare di una figlia che ironizzava con battute a sfondo sessuale con il papà e questo non solo ha messo un po' a disagio il papà perché non sapeva come rispondere ma ha fatto sorridere anche gli operatori che erano qui a vigilare che tutto funzionasse per il meglio l'iniziativa attuata grazie alle locali associazioni di volontariato Bricoliamo e insieme si può fare è stata da subito condivisa dall'Asuro ed è un esempio d'amore da imitare è stato un weekend di grandi emozioni sportive a Pesaro per l'impresa compiuta dalla Well battuta solo in finale dalla Armani Milano Thomas Delbianco è stata attapestata di striscioni la strada che dal casello di Pesaro porta al parcheggio della Torraccia nella notte è arrivata la Carpegna prosciutto basket Pesaro dopo l'impresa compiuta a Milano per le finalite di Coppa Italia di basket vittoria contro Sassari vittoria contro Brindisi troppo forte Milano in finale ma Pesaro è tornata orgoglio della città è uno dei cartelli apparsi all'altezza della rotatoria dell'Interquartieri e poi c'è questo alle mie spalle Tigna audacia passione siete l'orgoglio di Pesaro è un weekend di quelli che sognavamo di poter fare ma anni e anni che aspettiamo questo momento sinceramente non pensavamo neanche più che potesse tornare perché otto anni come abbiamo passato noi tifosi diciamo anche più anziani più sfegatati sono duri però diciamo lo zocco lo dure della tifoseria ci ha sempre sperato la società quest'anno ci ha fatto un bellissimo regalo perché dal rischio di andare in A2 retrocedere addirittura auto retrocedersi e invece ritrovarsi poi a una finale di Coppa Italia con Milano sinceramente è stato passare dall'inferno al paradiso in un attimo peccato averlo dovuto vedere in televisione aver dovuto godere tutti sul divano e non poter essere presenti perché in una finale come quella di ieri sicuramente 2-3 mila pesaresi a Milano si sarebbero mossi per andarla a vedere si sono moltiplicate anche sui social delle battute per cui vogliamo Repesa vita vogliamo una statua per Repesa perché effettivamente è un allenatore che ha impostato la squadra pur con le risorse che avevamo nel modo migliore siamo felicissimi di essere arrivati in finale di Coppa Italia anzi io giovedì mi ero fatto promette dai miei amici guarda che noi andiamo in finale ma dopo non rompiamo le scatole ce ne prendiamo 30 da Milano perché dopo mi hanno promesso tutti che non si arrabbiavano e non si sono arrabbiati stiamo tornando siamo dove dobbiamo essere perché ci siamo meritati di essere sia in finale sia al sesto posto va benissimo insomma dai ed ora la serie C posticipo di lusso per la matricola amatelica che stasera le 21 affronta il Modena in terra emiliana bianco-rossi privi di imbaie baraboglia e barbarossa reduci dal pari casalingo contro la vispesaro vi ricordo anche stasera a partire dalle 22 l'appuntamento con cuore di calcio la nostra trasmissione condotta da Sabrina Vinci Guerra e Sara Gambini ed è dedicata alla serie C ospiti collegamenti e poi le ultimissime sulla Samb è tutto per questa edizione del nostro TG Marche grazie per averci seguito arrivederci grazie per averci seguito grazie per averci seguito grazie per averci seguito grazie per averci seguito grazie per averci seguito